Ciao ragazzi, benvenuti nel canale. Oggi raccontiamo la storia di William Milligan o Billy Milligan, un uomo che aveva 24 personalità. William è stato l'ispirazione anche per Hollywood, infatti a lui è ispirato il film Fragmented e anche a lui è ispirata la nuova serie tv di Apple, The Crowded Room. Ricordiamo che non abbiamo intenzione di mancare di rispetto alle vittime ai loro familiari, si tratta sempre di deliti. Qui raccontiamo solo una storia vera in modo che le persone siano sempre consapevoli di ciò che le circonda e riescano a impedire che cose del genere succedano in futuro. Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche. Lascia anche un mi piace e condividi con i tuoi amici in modo che il canale possa crescere ancora di più. Mi raccomando. Ora sigla e buona visione. William Stanley Milligan, noto anche come The Campus Rapist, è nato il 14 febbraio 1955 a Miami Beach. Era figlio di Dorothy Paulinsons e del comico americano Johnny Morrison. Dorothy era cresciuta in una fattoria in Ohio e aveva vissuto a Lancaster con il suo primo marito. Alla fine hanno divorziato e Dorothy si è trasferita nella zona di Miami, dove ha lavorato come cantante. Lì ha conosciuto e poi ha iniziato a vivere con Johnny Morrison. Dorothy e Morrison hanno avuto altri due figli, un figlio, Jim, nell'ottobre del 1953 e una figlia, Katie Jo, nata nel dicembre del 1956. Morrison non si sentiva a suo agio col ruolo di padre e secondo Daniel Keyes, autore poi di una biografia su Billy Milligan, far fronte alle spese mediche ha messo a dura prova Johnny. Ha contratto più debiti, ha giocato di più, ha bevuto di più. Johnny fu ricoverato in ospedale per alcolismo acuto e depressione nel 1958 dopo quello che sembrava essere un tentativo di suicidio. Secondo Keyes, Dorothy lo aveva trovato sdraiato sul tavolo, mezza bottiglia di whisky e una bottiglia volta di sonniferi sul pavimento. Pochi mesi dopo questo tentativo, il 17 gennaio del 1959, Johnny si suicidò per avvalenamento da monossido di carbonio. William all'epoca aveva quattro anni. Così accadde che Dorothy prese i suoi figli e si trasferì da Miami tornando a Lancaster in Ohio, dove si risposò con il suo ex marito. Questo matrimonio poi è durato circa un anno. Nel 1962 invece conobbe Chalmer Milligan, la prima moglie di Chalmer, Bernice, aveva divorziato da lui per grave negligenza. Chalmer aveva una figlia, Challa, della stessa età di Billy e un'altra figlia che era un'infermiera. Dorothy e Chalmer si sposarono a Circleville in Ohio il 27 ottobre del 1963. Il nuovo marito poi si rivelò però una persona crudele incline alla violenza e al sadismo. La ricerca ritiene che la personalità di William Milligan, meglio conosciuto come Billy, abbia subito un duro trauma all'età di otto anni, quando il suo patrigno ha abusato di lui sessualmente. Lo stupro avvenne nel fienile vicino alla casa dei Milligan. La gravità di questo trauma ha causato poi la fattura malattia mentale di Billy. Secondo ricerche successive, la personalità più giovane tra le tante di Billy che vivevano all'interno dell'uomo non aveva più di 3-4 anni, proprio all'età che aveva Billy nel periodo in cui il padre fece due tentativi di suicidio. Billy ha perso il controllo del suo corpo all'età di 16 anni quando ha tentato il suicidio per la prima volta. Quindi la personalità di nome Arthur, che era un esperto addetto alla sicurezza, essendo nel suo corpo, abbatté il principale proprietario, Billy, e lo fece addormentare. Dopo che Billy si addormentò, il numero di personalità attive aumentò esponenzialmente. Due di loro hanno anche portato Milligan in prigione per la prima volta. Brooklyn Phil, un nome di una delle personalità, è stato coinvolto in rapine a coppie gay e il suo amico Kevin ha rapinato una farmacia. Una delle personalità di Milligan ha descritto il suo mondo interiore come una stanza buia al centro della quale c'era un raggio di luce. Una personalità ha bisogno di stare sul posto, cioè in questa stanza per prendere il possesso della mente. Mentre in prigione la principale personalità dominante era un comunista jugoslavo, Ragen Vadaskovinic, che si alternava con l'inglese Arthur. Queste due personalità avevano il potere di decidere chi e quando, tra le varie personalità, potesse rimanere in primo piano nella mente di Billy. Una sorta di consiglio di amministrazione di una mente in multiproprietà. Quando le personalità erano inconsce della mente, dormivano, osservavano e interagivano tra di loro. Il termine famiglia è stato anche utilizzato per identificare questo gruppo. Arthur e Ragen potevano bandire una delle personalità e privarla della permanenza in primo piano. Così è stato ad esempio con la personalità denominata Adalana, perché il corpo di Billy è stato arrestato una seconda volta a causa sua. Adalana, un'anima femminile tranquilla, è diventata poi una lesbica aggressiva che ha abusato sessualmente del suo studente sotto l'effetto di droghe. La personalità ha cercato di compensare la mancanza di amore e cura in questo modo. Arthur e Ragen misero Adalana nell'elenco delle persone indesiderate dopo questa occasione e le proibirono di impossessarsi della mente di Billy. Nel 1975 Milligan è stato arrestato e detenuto presso il Lebanon Correctional Institution nell'Ohio per stupro e rapina a mano armata. Fu rilasciato in libertà vigilata all'inizio del 1977. Nell'ottobre del 1977 è stato arrestato per avere violentato tre donne nel campus dell'Ohio State University. È stato identificato da una delle vittime, tra le foto segnaletiche della polizia, ritraenti autori di precedenti reati sessuali e dalle impronte digitali prelevate dall'auto di un'altra vittima. Poiché durante il crimine impugnava una pistola e delle armi erano state trovate durante la perquisizione della sua residenza, è incorso anche nella violazione della libertà vigilata. È stato quindi incriminato per tre capi di imputazione per sequestro di persona, tre capi di imputazione per rapina aggravata, otto capi di imputazione per possesso di armi da fuoco e quattro capi di imputazione per stupro. È stato poi rinchiuso nel penitenziario statale dell'Ohio in attesa del processo. Durante la preparazione della sua difesa è stato sottoposto a un esame psicologico dal dottor Willis C. Driscoll, che ha diagnosticato a Billy Milligan una schizofrenia acuta. È stato quindi esaminato dalla psicologa Dorothy Turner del Southwest Community Mental Health Center di Columbus, Ohio. Durante questo esame la Turner ha concluso che Milligan soffriva di un disturbo dissociativo dell'identità. I difensori pubblici di Milligan, Gary Schweikart e Judy Stevenson hanno chiesto una difesa per follia ed è stato ricoverato in ospedale finché non ha riacquistato la sanità mentale. È stato il primo uomo ad essere assolto da una corte degli Stati Uniti a causa di un disturbo mentale. Nel 1977 fu sottoposto a cure obbligatorie ed entrò nella storia della psichiatria come proprietario di 24 personalità differenti a tutti gli effetti. È diventato chiaro che il recidivo non sta bene con la psiche dopo l'esame psicologico. La corte ha ammesso che Milligan fosse pazzo, motivo per cui è stato mandato in cura presso la clinica statale. Billy Milligan, che era la personalità centrale, ha trascorso la maggior parte della sua vita dormendo. Altre personalità lo hanno isolato in questo modo per salvare la vita del corpo che condividevano. Il fatto che Billy ha costantemente cercato di suicidarsi fin dalla teneretà. Arthur Smith, Ray Zembadaskovinich, Allen, Tommy, Danny, David, Christine, Christopher, Adalana e altre 13 personalità hanno vissuto la sua vita. Nella mente di Billy c'era ancora posto per qualcuno di diverso da quelli già elencati. La personalità insegnante si è manifestata per la prima volta quando è stato sottoposto a terapia obbligatoria. Questo personaggio aveva i ricordi di tutte le altre personalità che convivevano nella mente di Billy e il professore, quello che ha aiutato Danny Case, poi con il materiale per un libro sulla villa di Milligan. Gli psichiatri credono che la ragione della sua doppia personalità sia stata l'abuso subito da parte del suo patrigno. Lo stupro potrebbe non essere anche un caso unico. Ci sono state altre manifestazioni di violenza da parte di Chalmer Milligan contro il figliastro. Tra le personalità di William c'era la 19enne April, ossessionata dall'idea di uccidere il suo patrigno. La ragazza, nella testa di Milligan, stava sviluppando un piano di vendetta, ma è stata poi soppiantata dalla personalità dominante di Arthur. Così April ha convinto Ragen a uccidere il suo patrigno perché non poteva farlo da sola. L'intellettuale Arthur difficilmente avrebbe potuto dissuadere Vadaskovinich dall'attentare alla vita del suo patrigno. Sulla base delle informazioni ottenute durante il trattamento di Billy, Chalmer Milligan è stato poi accusato e condannato per stupro e abusi sui minori. Le diverse persone che vivevano nel corpo di Billy Milligan avevano una vita privata. I più famosi furono gli episodi d'amore del sedicente Tommy e di Allen, diciottenne. Le relazioni intime erano vietate a tutte le personalità maschili di Milligan poiché potevano rivelare la sua malattia. L'unica personalità femminile di Billy, Adalana, non era celibe, era una lesbica aperta e aveva relazioni intime con un'altra delle personalità di Milligan. Fu Adalana a commettere diversi stupri di donne per i quali Billy fu arrestato nel 1977. Daniel Keyes ha menzionato nel suo libro che al momento del contatto con le sue vittime, Billy era sotto l'effetto di droghe. Questo spiega il caotico cambiamento di personalità al momento dell'attacco e il comportamento aggressivo di Adalana. Tra i primi dieci c'era Arthur, un inglese etteroschietto specializzato in scienze, medicina ed ematologia. Allen, un manipolatore. Tommy, artista della sfuga e tecnofilo. Ragen Vadaskovinic, un comunista jugoslavo che secondo Milligan aveva commesso le rapine in una sorta di animus alla Robin Hood. Adalana, una lesbica di 19 anni, timida, sola e introversa, che cucinava per tutte le personalità e bramava affetto e che avrebbe commesso gli stupri. Daniel Keyes ha suddiviso le 24 personalità di Billy Milligan come segue. Il numero 1, William Stanley Milligan, 26 anni. È l'identità centrale, quella originale, il guscio vuoto che si alterna alle altre personalità più invadenti. 2, Arthur, 22 anni, londinese, dal forte accento britannico. È una delle personalità più autorevoli ed è quella che assieme a Ragen decide chi, a seconda della situazione, deve emergere. Studia biologia e medicina, conosce la lingua araba che legge e scrive correntemente. 3, Ragen Vadaskovinic, 23 anni, comunista jugoslavo dal forte accento est-europeo. Esperto di karate, è la personalità autorizzata all'uso delle armi, quella detta alla protezione e al sostentamento delle altre personalità. in più occasioni dimostra una forza incredibile, eccezionale, grazie alla sua capacità di controllare e concentrare l'adrenalina. Quando Ragen ha il controllo, infatti, Billy riesce addirittura a staccare il gabinetto della sua cella, ma di nuda. 4, Allen, un percorsionista e pittore. L'unica personalità a fumare sigarette e a non essere mancina. È la personalità che emerge più spesso e che costruisce le relazioni sociali. 5, Tommy, 16 anni, esperto di elettronica e mago della fuga. È quello che prende il controllo quando si tratta di liberare Billy grazie alla sua capacità di controllare muscoli e ossa delle mani. Gli piace dipingere paesaggi. 6, Danny, 14 anni. Ha due fobie incontrollabili, quella per gli uomini, dovuta alle violenze del patrigno di Billy, perché era la personalità che emergeva e le subiva, è quella per la terra. Gli piace dipingere, ma esclusivamente natura e morte. 7, David, 8 anni. Definito il guardiano del dolore, viene fatto emergere all'esterno quando a Billy viene fatto del male, così da fargli assorbire tutto il dolore e risparmierlo agli altre personalità. È quello che rompe il patto di segretezza stretto tra le varie personalità, svelando la loro resistenza alla psichiatra, che analizzava Billy. 8, Kristen, 3 anni, chiamata la bambina dell'angolo perché emergeva quando a scuola Billy veniva messo nell'angolo per punizione. È stata la prima personalità da emergere quando Billy aveva 4 anni. Le piace disegnare fiori e farfalle da mostrare al fratello Christopher ed è dislessica. 9, Christopher, 13 anni, fratello di Kristen. 10, Adalana, 19 anni, lesbica, timida, scrive poesia e cucina. È lei la personalità colpevole degli stupri che poi nasconde alle altre personalità. Scoperte le sue colpe, le viene impedito di emergere di nuovo e viene bandita nelle personalità negative. Poi ci sono le 13 personalità negative a cui veniva vietato di uscire nel mondo esterno ed erano chiamate indesiderabili. Venivano bandite da Arthur, la personalità principale dall'accento inglese, perché ritenute pericolose per la libertà e la sopravvivenza delle altre personalità. La prima è Philip, 20 anni, delinquente originario di Brooklyn, spaccia e assume droga di ogni tipo e picchia gli omosessuali. 2, Kevin, 20 anni, criminale come Philip, spaccia e assume droga. Per il periodo di internamento di Billy, durante il quale subisce le violenze del personale, viene reintegrato perché è l'unico, insieme a Ragen, capace di opporre resistenza alle percosse. 3, Walter, 22 anni, australiano, gli piace andare a caccia e ha un buon senso dell'orientamento. Uccide un corvo nel bosco, violando così la regola di non uccidere animali e per questo viene bandito. 4, April, 19 anni, di Boston, ha un unico pensiero fisso, torturare e uccidere il patrigno di Billy, vendicandosi di tutto il dolore subito. Per questo suo desiderio di vendetta viene bandita. 5, Samuel, 18 anni, ebreo, è l'unico a credere in Dio, viene bandito perché viola la proprietà delle altre personalità vendendone dei quadri. 6, Mark, 16 anni, svolge i lavori manuali. 7, Steve, 21 anni, gli piace ridere e scherzare e viene bandito perché il suo comportamento aveva portato Billy a trascorrere dieci giorni in una cella di isolamento. È convinto di essere la personalità centrale, mentre considera tutte le altre identità pure invenzioni della sua fantasia. 8, Lee, 20 anni, sempre pronto a fare battute e organizzare scherzi agli altri e persino alle altre personalità. Viene bandito poiché finiva col crearsi nemicizie e guai. 9, Jason, 13 anni, è la valvola di sfogo. Attraverso i suoi pianti, gride e crisi isteriche vengono scaricate le tensioni interne accumulate da Billy. 10, Robert, 17 anni, ama fantasticare e sogna di diventare un attore. Durante il periodo di detenzione inizia uno sciopero della fame e oltranza, ritenuto pericoloso per la salute di Billy, viene bandito. 11, Sean, 4 anni, sordo, emette un ronzio con la bocca per sentire le vibrazioni nella testa. È la seconda personalità ad emergere ed è quella che inizialmente esce sul posto quando Billy deve essere punito. 12, Martin, 19 anni, viene da New York, bandito perché assume atteggiamenti da sbruffone, superficiale e snob. 13, Timothy, 15 anni, ama i fiori, ha lavorato presso un fioraio ma quando il proprietario del negozio omosessuale gli ha fatto delle avance è fuggito via spaventato. Infine abbiamo l'ultima personalità che è quella del maestro, 26 anni, è la fusione di tutte le altre personalità, di tutti i talenti e ricordi di ognuna di esse. È un'autodidatta dai molteplici interessi, tutte le conoscenze vantate dalle varie personalità provengono dai suoi studi condotti in maniera autonoma. È il vero Billy Milligan. Come abbiamo visto, le tante personalità di Billy Milligan sono molto diverse tra loro, tanto che quando emergono rispondono a nomi diversi. Ora sono Billy, ora sono Martin, eccetera. Milligan è stato internato in numerosi ospedali psichiatrici statali come l'Aten State Hospital, dove secondo la sua scheda ha ottenuto pochi benefici e fatto ancora meno progressi. Mentre era in questi ospedali, Milligan ha riferito di avere 10 personalità diverse. Questi 10 erano gli unici conosciuti dagli psicologi. Successivamente furono scoperte altre 14 personalità etichettate come gli indesiderabili. Milligan ha ricevuto cure dallo psichiatra David Cole, che ha diagnosticato le 14 personalità aggiuntive. Nel 1986 è scappato dalla struttura psichiatrica in cui si trovava e durante quel periodo ha vagato libero sotto uno pseudonimo, Christopher Carr, e potrebbe essere stato colpevole di avere rapito il suo compagno di stanza e averlo ucciso, uno dei due omicidi di cui Milligan è sospettato. Daniel Case è autore di un romanzo biografico di saggistica intitolato The Minds of Billy Milligan 1981. Il suo libro successivo, The Milligan Wars, è stato pubblicato in Giappone nel 1994, a Taiwan nel 2000, in Francia nel 2009 e in Ucraina nel 2018, ma non è stato pubblicato negli Stati Uniti. Prima a causa della causa in corso di Milligan contro lo Stato dell'Ohio per il presunto trattamento inappropriato ricevuto presso la struttura clinica dello Stato, poi per il desiderio di legare la sua uscita a un film in fase di sviluppo. Va notato che la psichiatria negli anni 70 non era sviluppata come lo è oggi. I medici decisero che Milligan soffriva di schizofrenia acuta. Ci sono stati solo pochi casi di personalità multipla divisa in quel modo, quindi sono stati necessari ulteriori esami per fare una diagnosi accurata. La psichiatria moderna ha classificato Milligan come un classico esempio di patologia. La sua storia e le sue foto sono state incluse in molti manuali di formazione sul tema della terapia e della diagnosi delle malattie mentali. L'uomo ha trascorso circa dieci anni in una clinica psichiatrica. È stato rilasciato nel 1988. Si ritiene che il motivo della sua dimissione fosse la guarigione. Tuttavia c'erano anche prove discordanti che deponevano per il fatto che il paziente non fosse ancora diventato una persona intera. Secondo l'avvocato, nella casa dell'ex prigioniero, alcune pareti erano ricoperte di formule matematiche, mentre altre erano state affrettatamente affrescate. I medici credevano che la personalità di William Milligan avesse ripreso il controllo del corpo. Tuttavia non si sapeva come stessero in effetti davvero le cose. Milligan è stato rilasciato definitivamente nel 1988, dopo un decennio negli ospedali psichiatrici e poi rilasciato dal sistema di salute mentale dell'Ohio, dai tribunali dell'Ohio, il primo agosto 1991. Nei 1996 viveva in California, dove possedeva la Stormy Life Productions e stava per realizzare un cortometraggio che a quanto pare non è mai stato realizzato. La sua posizione, da l'ora in poi, è rimasta sconosciuta per molto tempo. I suoi ex conoscenti hanno perso i contatti con lui. L'uomo ha vissuto per qualche tempo in California e ha fatto affari cinematografici. La sua azienda poi però è fallita e Billy è scomparso dalla vista del pubblico. Ha smesso di interagire con i suoi conoscenti e non ha nemmeno ritirato il denaro che è stato restituito al suo conto dopo aver saldato i debiti. L'ultimo indirizzo conosciuto di Milligan era una casa di riposo. Diversi tentativi sono stati fatti da Hollywood per adattare il libro di Case. All'inizio degli anni 90 James Cameron ha scritto insieme a Todd Graff una sceneggiatura per una versione cinematografica che avrebbe diretto, poi intitolata A Crowded Room. Questo adattamento non si è mai concretizzato perché Cameron è stato citato in giudizio dal titolare dei diritti di adattamento, Sandy Arcara, chiedendo che il suo compenso fosse aumentato da 250.000 dollari a un milione e mezzo. Vedendo il progetto bloccato, Milligan ha anche incitato in giudizio Cameron nel 1993. Dopo che Cameron ha lasciato il progetto, la Warner Bros. ha continuato a sviluppare l'ormai leggermente ribattezzato The Crowded Room con i registi Joey Schumacher e David Fincher, attaccati in vari punti. Gli attori corteggiati per il ruolo di Milligan includevano Matthew McConaughey, Johnny Depp, Brad Pitt, Sean Penn e John Cusack. Nel febbraio del 2015 è stato confermato che Leonardo DiCaprio avrebbe interpretato Milligan con Jason Smilovich che avrebbe scritto la sceneggiatura. Nel 2021 è stato annunciato che The Crowded Room sarebbe stato adattato come serie televisiva di dieci episodi con protagonista Tom Holland. William Stanley Milligan è morto nel 2014. La notizia della sua morte è apparsa sulla stampa il 16 dicembre. La causa della morte di Billy è stato un tumore. L'uomo è morto a due mesi dal compiere 60 anni in una casa di cura in Ohio. Nel 2021 Netflix ha pubblicato un documentario in quattro parti intitolato Monsters Inside The 24 Faces of Billy Milligan. La serie è stata diretta da Olivier Megaton. Il documentario menziona che Milligan avrebbe confessato di essere un assassino a sua nipote prima della sua morte e lo collega a due omicidi irrisolti. Quindi ragazzi questa era la storia di Billy Milligan. Grazie per aver assistito a questo video. Seguiteci sui social media i cui link trovate nella descrizione. Iscrivetevi al canale, fateci crescere, attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche. Lasciate anche un mi piace, condividete con i vostri amici che sono appassionati di crime stories. Alla prossima!